Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova lotta wifi, io sono Alex e oggi affrontiamo Ale Allora, come vedete la mia squadra è completamente diversa rispetto all'ottima volta perché volevo fare un esperimento con alcuni Pokémon che avevo a random nel mio box e così ho deciso di provare questa nuova squadra composta, come vedete, da un po' i principali ruoli che ci servono, insomma, generalmente a Pokémon come un wall fisico, insomma, non è proprio un wall fisico, ma comunque sia un buon difensore come Mandibuts e poi c'è quello speciale che è il solito Blissy che io amo particolarmente poi c'è l'Andorus, Sigun, Latios, che sono i miei attaccanti, difensore fisico Sigun l'ho fatto così, non so perché voglio provarlo così e Latios, come sapete, è un buonissimo sweeper speciale che ha anche molta velocità poi c'è Mawil che ha un'ottima mega evoluzione che volevo provare questo team è proprio un po' abbozzato e campato in aria volevo solamente provarlo con qualcuno e così ho trovato Ale che era disposto a sfidarmi allora Ale ha davvero un buon team, infatti come vedete è uno degli avversari più bilanciati che ho affrontato fino adesso perché ha tutti i ruoli, insomma, se vogliamo chiamarli così principali, ovvero su livello speciale come Charizard Y poi c'è anche quel donato Terranitar che mi dirà molti problemi perché è in grado di difendersi molto bene e questa cosa è stata valutata e poi c'ha Ferroton come fisico, Blissy come speciale come nel mio caso Terranitar e Hydrokayton vabbè, detta dunque una analisi molto veloce di questi due team e dopo aver fatto una chiacchierata a proposito direi di far partire all'azione visto che ho parlato anche un po' troppo parte la sfida con Ale, perfetto ragazzi allora, il primo programma che metto in campo è Latios contro il suo Ferroton allora, contro Ferroton non ho mosse che fanno particolarmente male quindi ho deciso di andare con Ragiro per mettergli lo strumento, l'anticelta e prendermi il suo strumento ma in realtà non ha niente, questo è davvero strano comunque sia, rimango con un Latios nel suo strumento allora, l'anticelta obblicherà appunto Ferroton al suo ritiro perché non poteva fare moltissimo e quindi menti e tank allora, io visto che ero sicuro che lui cambiasse i Pokémon a meno che non vola fare le vitroccia all'infinito vado del mio attacco con cui lo stab occulo e riesco a mandare Blissy che poi non colpa incredibilmente perché il mio attacco è Psico Psico non mi ricordo come cavolo si chiama Psico... porca puttana non mi ricordo e vabbè, insomma, guarda la sua difesa fisica siccome Blissy ha una difesa nulla fisica riesco a buttarlo giù con un brutto colpo ok, quindi vado di Dragobolide e non gli faccio praticamente nulla a questo Terraniter si vede che forse è un hull speciale, questo non lo so comunque sia, uno sgranocchio ovviamente mi manda KO perché Latios ha una difesa un po' di merda e... il Terraniter ha un attacco veramente molto alto e poi in più ha lo stab sulle mostre tipo a buio che sono il mio punto debole perfetto, quindi adesso metto Mandibus faccio una cavolata perché pensavo di reggere benissimo il colpo invece ho fatto una cazzata assurda e metto delle spregomandibus per nulla facevo molto meglio, anche se non si dice, a mettere Mawil usare per potenza e dargli una bella ammazzata a questo Terraniter perché l'ho completamente sottovalutato, non pensavo che siccome era così difensivo possa anche allo stesso tempo così offensivo, questa cosa mi ha veramente scombustolato quindi metto il mio altro difensore, ovvero Sigun che pensavo anche lui reggesse meglio questi colpi invece con un petrataio, vabbè dai, non gli fa moltissimo comunque sia, gli fa abbastanza, facciamo dire questo nonostante che è completamente pesato in difesa e in HP ovviamente è un Pokémon perfetto, quindi ha buone statistiche insomma allora, Avanzi gli fa recuperare la vita che gli toglie la sabbia adesso ho usato un calmamente e lui usa il petrataio allora, io vado il biroampata perché ho il calmamente e quindi pensavo di fargli un KO a questo punto visto che gli è rimasta poca vita però questo non succede e lui rimane a veramente poca vita allora, consigliando questo punto io sarei andato insomma per ricurarmi la vita però non faccio un tempo e lui ha anche la fortuna di fare 3 petrataio su 3 senza fallire un colpo e questo mi manda KS-Gun anche perché avevo sottovalutato appunto ancora una volta il suo Terranitar perché magari se avrei fatto l'idroampata a questo punto avrei fatto cosa buona e giusta insomma vabbè, comunque sia, sono costretto a mandare in campo il mio Randorus e avrei dovuto farlo prima, metterlo lui o Mawil comunque sia, vabbè, già vi ho detto che ho sbagliato e non saranno pochi sbagli in questa partita quindi vado di Lucidatura per aumentare la velocità e per poter farmare anche i Pokémon che subentreranno a Tyranitar ok, uso Terremoto e vabbè, ovviamente lo mando a KS-Gun questo dannato Tyranitar che è stato il nocciolo di questa partita perché praticamente mi ha distrutto mezzo team e lui mette Ferrothorn allora, con Ferrothorn lui giustamente lo mette perché è in grado di reagire molto bene gli attacchi fisici considerate questo Landorus Landorus, come lo volete chiamare voi ha un attacco davvero devastante e con la velocità, grazie a Lucidatura, diventa anche velocissima e quindi con due Terremoti che sono il nostro punto forte riusciamo a mandare giù Ferrothorn allora, lui ci usa Hydrakaten pensando di reagire colpa io uso troppo forte e sorprendentemente lo metto KO appunto, questo sta a sottolineare il fatto di come questo Pokémon abbia un attacco davvero mostruoso, ragazzi veramente un attacco incredibile allora, adesso mi mette Brilum Brilum non sapevo che fai visto che non avevo mosse che insomma gli facevano qualcosa di serio quindi vado per privazione per togliergli a meno l'oggetto e lui mi addormenta ok, a questo punto sono costretto a cambiare Pokémon anche perché potrebbe fare centripugno danza spada e tutte queste cose però faccio anche un'altra cavolata ovvero quella di lasciarlo inutilmente un altro turno in più in campo e a questo punto gli permette di fare il danza spada allora, a questo punto metto Blissy perché metto Blissy? non so perché metto Blissy perché ho messo Blissy? non mi ricordo non mi ricordo assolutamente perché ho messo Blissy comunque sia lui mi usa 6 mitraglie mi fa male i cane e vabbè, me lo uccido perché fa più di 2 colpi non mi ricordo proprio perché ho messo Blissy comunque sia l'ennesima cavolata che ho fatto in questa partita ho fatto una maria di cazzate proprio e quindi a questo punto metto Baobau ovvero il mio Mawil che si Mega Evolverà, come vedrete allora, Mawil, come sapete Pokémon tipo Folletto e c'ha lo stab contro di lui e quindi potrebbe metterlo Gaffaio in un colpo allora, a questo punto mi pare che vado di carineria mi pare a lui usa danza spada e se la desca è a fare danza spada qui perché insomma il mio Mega Wire lo fa molto male infatti con carineria poi riesce a stenderlo a mio avviso ha fatto una cavolata insomma ad andare di danza spada tanto era molto facile che andassi di carineria per ucciderlo insomma adesso forse questo è il suo ultimo Pokémon se non sbaglio mi pare di sì e quindi fa Mega Evolverà il suo Charizard purtroppo Charizard è molto più veloce di me e ha lo stab contro di me quindi un'ancia fiamme mi mette KO proprio a 200% allora io l'unica cosa che potevo fare è la Sbigo Attacco Sbigo Attacco gli fa molto male però non la mette KO ovviamente perché non è la mossa stabbata sua usa fuoco bomba se falliva questa mossa praticamente avrei vinto vabbè ma insomma era molto facile che colpiva e quindi insomma l'ha vinta lui perché io adesso ho un Landorus che dorme e gli piace molto dormire a questo Landorus come vedrete allora usa per potenza inutilmente lui mi usa fuoco bomba fallisce e il Landorus dorme quindi se si sbagliava magari poteva usare troppo forte finita partita qualunque sia questo non avrebbe giustificato tutte le marea di cavolate che ho fatto e quindi giustamente ho perso perché veramente ho fatto un sacco di cazzate come avete visto e quindi Ale vince la sfida devo dire che l'ha giocata molto bene ha fatto una sola cavolata con Brilum e vabbè niente di più da sottolineare dal suo conto invece io ho sbagliato veramente praticamente tutto stavo giocando proprio al cazzo di cane e più che altro volevo testare questa squadra che probabilmente nelle lotte future gli farò qualche modifica perché come vedete così non ingrana molto oppure sono semplicemente io che mi ci devo un po' abituare a usare bene Mandibuts Sigun anzi Sigun non lo userò più Landorus e vabbè tutti gli altri insomma ho provato a buttarli tutti là e vedere un po' che succedeva ed è successa una cosa non troppo bella comunque sia l'importante è che è stata una bella lotta io spero che vi sia piaciuto anche a voi ringrazio Ale che tra l'altro ha un canale YouTube io vi consiglio a passare al suo canale ho messo il link in descrizione mi raccomando passateci se vi va e niente grazie a tutti ragazzi per la visione e ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti da Alex SS94 ciao a tutti grazie a tutti